Vladimiro Adelmi è il brand manager dei prodotti Coop ed è a Bologna per l'edizione 2017 di Marca. Mi dice innanzitutto che appuntamento è questo per voi e chi si siede a questi tavolini che voi avete allestito in questo stand? Buongiorno, questo è un appuntamento ormai storico, diciamo tradizionale che si è sviluppato nel corso degli anni quindi è un appuntamento che si crea tra le aziende di produzione e le aziende di distribuzione chiaramente con un focus maggiore sul nostro paese ma nel corso degli anni questa è un'esperienza che sta diventando sempre più internazionale la prova ne è che per Coop oltre ai colleghi che si occupano del business in Italia ci sono anche colleghi che si occupano dell'esportazione dei prodotti Coop nel mondo. Mi dice che momento sta vivendo la grande distribuzione e verso dove sta andando Coop in questo caso qual è il tipo di ricerca che sta facendo? Questi sono mesi, sono anni di grande cambiamento, di grandi turbulenze anche in modo imprevisto come dimostra anche la situazione politica e come dimostrano tutti i fatti della nostra vita quindi la grande distribuzione non è indenne, anzi è proprio in prima fila perché è lì che avviene il momento di incontro tra il cittadino che diventa consumatore e acquista prodotti di largo consumo ecco Coop ora e più che mai domani cercherà di creare questa relazione tra il consumatore e il distributore di conseguenza l'industria, ecco una relazione sempre più forte, sempre più autentica, sempre più utile per tutti gli attori a partire dai consumatori naturalmente. Un'ultima domanda, sul tavolo un prodotto Coop per chi non lo sapesse quanta ricerca c'è dietro alla presentazione di un prodotto che arriva nelle tavole degli italiani e delle famiglie, insomma è importantissimo e voi ne fate tanta? Beh noi abbiamo una lunga tradizione, il primo prodotto pensate è nato nel 1896, ripeto 1896 il primo prodotto chiamiamola marchio Coop è stato un panettone realizzato dalla nostra cooperativa di Milano allora, adesso c'è Coop Lombardia dietro c'è tantissima ricerca, noi abbiamo un'unità che è composta da tecnici di qualità, da chimici, da biologi insomma da persone che il cui compito è proprio quello di mettere a punto dei prodotti, di controllarli e di offrire alle persone, ai cittadini, ai consumatori tutte le massime garanzie e allo stesso tempo insieme alle nostre imprese, ai nostri co-paker, ai nostri partner cioè le aziende industriali che producono i prodotti assicurare sempre dei prodotti migliori, più innovativi e ovviamente sempre più sicuri.